Come si tratta di un percorso di inclusione reale? Come si tratta di un percorso di inclusione reale? Come si tratta di un percorso di inclusione reale? Tra enti locali ed enti gestori dei progetti di accoglienza in Campania, per creare una rete regionale insieme con le organizzazioni del terzo settore, facilitando anche il dialogo con gli organismi centrali. E' questo lo scopo del forum Sprar si proimi della Campania, che si è costituito oggi a Palazzo San Giacomo. Provare ad immaginare insieme come enti locali una exit strategy per tutti quei migranti che finora erano le categorie accoglibili nello Sprar e che domani non lo saranno più. Sicuramente queste persone avranno bisogno di un percorso di inserimento che sarà molto più repentino e molto più brutale di quello che c'è adesso e probabilmente insieme possiamo immaginare un percorso condiviso e anche mutualistico. Ma mettere insieme le esperienze virtuose, positive e concrete di accoglienza e di integrazione nel nostro paese. Cioè in Campania come in tutta Italia ci sono tante esperienze che hanno fatto integrazione, hanno creato comunità coese, hanno dimostrato che l'immigrazione non è un business, ma significa vivere in un mondo dove c'è più pace e più fratellanza, distruggere la propaganda odiosa che ha messo in campo questo governo, perché poi chi sta sul pezzo sono i sindaci. Loro fanno pure la propaganda, vanno nelle televisioni, la politica dei like, noi poi invece dobbiamo confrontarci con le persone che esistono. E fin quando c'è questa Costituzione, la Costituzione ci dice che tutti sono uguali di fronte alla legge e quindi i diritti li dobbiamo garantire. A tutti eliminando quelle situazioni in cui l'immigrazione può diventare un peso e una problematica che può far scaturire il conflitto sociale. Per far fatto l'esempio delle politiche dei governi che concentrano centinaia e centinaia e centinaia di persone in una stessa strada, non è quella l'integrazione che ci piace, ma quella è l'integrazione che è il modello che i governi prima di centrosinistra, ma anche di centrodestra, oggi di la Lega 5 Stelle vogliono mettere in atto proprio per poi costruire una propaganda politica che a noi non piace. Noi siamo amministratori, siamo sindaci, ci sono operatori sociali, c'è gente che lavora e lavora per costruire un mondo migliore. Lei ha parlato anche di Riace, quello è proprio un simbolo di come chiudere un progetto che punta all'integrazione e possa portare un comune ad avere delle condizioni disagiate come prima. Hanno distrutto il modello Riace. Io esattamente un anno fa, ricordo anche il giorno, il 4 agosto del 18, con Ada Colau e Mimmo Lucano, teniamo un bellissimo incontro a Riace, c'era una preoccupazione per quello che poteva accadere, ma tanta gioia, tanta allegria. Parlavamo davanti a centinaia e centinaia di persone e dietro di noi, con un caos pieno di armonia, giocavano insieme bambini calabresi e bambini africani. Quest'immagine è scomparsa. Riace è tornata a essere il paese il cui problema non era l'immigrazione, ma l'immigrazione. Ma nello stesso tempo, mentre vi parlo, in questi minuti stanno arrestando persone in Calabria per i soliti rapporti tra affari, politica e criminalità. Evidentemente si parla dei barconi per non parlare più di corruzioni e mafia. Questo è un governo che non sta facendo nulla da quel punto di vista, anzi sta mettendo in campo leggi e provvedimenti che consolidano fortemente l'insicurezza nel nostro paese per creare le condizioni di un'esasperazione sociale che può portare a un sempre più evidente conflitto per poi evidentemente giustificare politiche di ordine pubblico.